Siamo qui nella città eterna, Roma. Partiamo da questa prima tappa di questi giorni, perché sono tre giorni di questo tour romano. Preghiera e poi lì in seguito. Ciao! Preghiera e poi lì in seguito. 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 Preghiera e poi... Preghiera e poi... Preghiera e poi... Preghiera e poi... Preghiera e poi lì in seguito. Preghiera e poi... Preghiera e poi... E poi... Preghiera... Preghiera... Preghiera...